Nel video di oggi vediamo come utilizzare GitHub Desktop con Arduino IDE per gestire i progetti è un sistema un pochino più furbo per far fronte a tutte le modifiche che i programmatori in erba di solito compiono per esempio il classico vizio di copiare, creare copie delle cartelle, copie dei file con nomi tipo ultimissimo, ultimissimo finale con la data di oggi, punto A, punto B, punto C, versione 1, 2, 3 eccetera eccetera che è un disastro quindi con un sistema come Git che è un sistema di versionamento del software possiamo dare ordine e un senso allo sviluppo in modo che sia ordinato, condivisibile con altri, possiamo tornare indietro nella storia, possiamo creare dei branch e avere più versioni che coesistono e questi branch poi possono anche riconfluire sul flusso principale di sviluppo per avere sempre un prodotto ordinato e sapere sempre quello che abbiamo fatto nella storia dello sviluppo è un mondo complicato, come sempre vi faccio vedere le funzioni base, quindi creare un repository e gestire le modifiche e vedremo anche come creare un branch e riportarlo sul flusso principale se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo, non ti costa nulla e mi dai una mano a proseguire nella creazione dei contenuti iniziamo subito quanti di voi si trovano a creare tutta una serie di copie del progetto di Arduino con ultimo, ultimissimo, finale, definitivo, data di oggi, data di domani, ultimissimo, più, più, ultimissimo, due è una cosa comune nell'ambiente di programmazione per chi magari non è esperto di programmazione capta di cascare in questa spirale pericolosa di copie quindi di copia degli sketch del progetto per tenere traccia delle modifiche che avete fatto allora, sebbene un sistema che può funzionare è abbastanza rischioso perché non è il modo ottimale di gestire un progetto qual è il problema? il problema è che magari fate una modifica al progetto e avete un progetto funzionante aggiungete qualcosa e non funziona più allora dovete riavvolgere il nastro, vorreste tornare indietro è una tecnica che usate, se usate videogiochi capitano salvate la posizione, l'ultima posizione rischiate, morite, ricaricate l'ultimo punto salvo e da lì ripartite a giocare si può fare lo stesso anche nella programmazione con Arduino nello sviluppo di software è comune si usano questi sistemi per la gestione del software, il versionamento cioè date delle versioni a quello che voi sviluppate in modo che potete sempre tornare a un punto sicuro eventualmente tentare delle varianti non serve solo per questo immaginate di avere un sistema che è arrivato in una situazione funzionante, definitiva però vi chiedono una modifica per un caso particolare allora come faccio per non rovinare tutto? posso far coesistere più versioni? sì, con sistemi tipo Git non è l'unico, c'è CUS, SWN, ce ne sono un po' Git è quello attualmente un po' più in voga vediamo come fare questo qui è il sito di Git ufficiale potete scaricare i tool anche qua se volete usarli da terminale molto utile è usare il software GitHub Desktop trovate qui il link GitHub Desktop che fa già tutto lui ed è un tool grafico quindi semplifica molto la vita abbiamo già parlato di Git, della gestione dei progetti in video precedenti ripeschiamo perché ripetere fa bene quindi è un tool grafico molto bello, pulito, chiaro per gestire i progetti sembra complicato, adesso vediamo come fare l'ultima cosa che vi serve è crearvi un account su GitHub allora vi faccio vedere, io ne ho già uno creato quindi cercate GitHub Git è il software in sé GitHub è un server pubblico a disposizione degli sviluppatori su cui è possibile andare a creare questi repository questi archivi del nostro software quindi io posso andare sul sito di GitHub mi registro, creo un account e cosa succede? c'è un software centrale che permette di gestire dei repository i repository per esempio da me li vedete qua ne ho ben 27 possono essere pubblici o privati in modo da rendere disponibile la comunità oppure sono cose vostre non li esponete li usate per il vostro sviluppo personale qui vediamo il sito di GitHub l'ho aperto con un browser anonimo perché essendo già logato mi porterebbe sulla mia pagina poi la vediamo quindi vi registrate facendo SignUp create un account necessario per poter gestire il software utilizzando questo sistema torniamo al mio GitHub una volta che vi siete registrati potete creare vari repository per i vostri progetti ci si può muovere in vari modi o create repository qui e poi lo scaricate oppure utilizzando GitHub potete creare direttamente un repository con GitHub e poi caricarlo sull'account quando installerete GitHub Desktop vi chiederà poi le credenziali da inserire all'interno le potete trovare nelle impostazioni se andate dentro File Option avete account e qui potete aggiungere il vostro account in modo da poter pubblicare direttamente possiamo vedere un po' tutte e due le strade quindi posso creare un repository online direttamente faccio new dice creiamo un nuovo repository facciamo Arduino test mi dice che è disponibile potete mettere una descrizione qua lasciamolo vuoto metto privato voglio che sia solo mio aggiungiamo un file redmi potete aggiungere un file git in your serve se voi sviluppate in un particolare linguaggio ad evitare per esempio che vengano aggiunti dei file per esempio i file gli obj cose del genere che potrebbero dar fastidio in Arduino lavoriamo in C++ quindi mettiamo C++ poi si può modificare per evitare che vengano aggiunti dei file che potrebbero dar fastidio inutile caricarli su repository e occupare spazio potete scegliere anche una licenza mettiamo new public eccetera eccetera creiamo un repository in questo modo ecco qua questo è il nostro repository quindi è possibile accedere tramite un link questo che TPS che possiamo usare poi per collegare il nostro github desktop il repository è inizialmente popolato con una serie di file che possono essere addirittura modificati online qui su github quindi qua premendo la matitina potete scrivere quello che volete anche modificare i sorgenti in caso di emergenza qualche volta capita ok quindi questo è il mio repository online vuoto voglio mettere qui dentro un progetto di Arduino e provare a gestirlo quindi avendolo creato vi devo ricordare il nome è questo qua zeta maker arduino test quindi questo qui è il mio salvataggio online in modo che io da qualsiasi computer posso andare a installarmi il mio github git o github desktop e scaricare la cartella con i sorgenti ora apriamo github desktop e voglio collegarmi a questo file a questo repository che ho creato quindi vado su file e faccio clone repository queste operazioni le potete fare anche col terminale se installate il git base cioè se lo scaricate da qua e lavorate a terminale è chiaro che molti preferiscono usare una versione più moderna quindi vi suggerisco git a destra che uso anch'io quindi fai clone repository clono copio repository online qui vede già quello che abbiamo online e io posso scrivere zeta maker barra l'abbiamo creato chiamandolo arduino test eccolo qui lo seleziono e mi dice ok dove lo mettiamo scegliamo la cartella in cui andare a posizionarlo vado su desktop io ho una cartella github dove ho tutti i progetti potrei metterlo qui dentro quindi vado qua oppure per non confondere troppo vado su desktop faccio nuova cartella metto progetti trattino arduino trattino git ok creo una cartella seleziono la cartella e ok vedete qua verrà creato dentro progetti arduino git su desktop facciamo clone aspettiamo un attimo a questo punto abbiamo creato la cartella apple explorer vado su desktop ed ecco qui dentro progetti arduino arduino test con dentro gli stessi file dentro qui voglio creare un progetto arduino allora prendiamo il nostro arduino partiamo con uno sketch vuoto faccio file save as vado a cercare desktop progetti arduino arduino test e qui dentro salviamo il nostro sketch lo tengo comunque dentro una cartella quindi chiamiamolo new blink faccio salva ed è stato creato andiamo qui sotto vedete che ho new blink con dentro blink.ino guardate se ora apro git addesto vedete che si è accorto della modifica io se posso aprire qua i repositori su arduino test c'è un puntino perché mi dice guarda che c'è una modifica qui dentro lo seleziono e mi dice guarda che c'è un file nuovo è stato modificato è stato aggiunto qui vedo cosa c'è a questo punto abbiamo due passi perché posso gestire i file prima localmente e quindi posso andare a aggiungere modifiche su una specie di database delle modifiche locali e poi a un certo punto posso pubblicare tutto online per renderlo visibile anche su github sul sito o quello pubblico allora qui avendo aggiunto un file posso mettere init progetto init progetto qua potete mettere nella descrizione facciamo un primo poi di solito io ne metto veramente poche ma scrivete cosa avete aggiunto primo sketch vuoto faccio commit ok è stato commitato su main main cos'è? è il filone principale di sviluppo poi vedremo come crearne altri allora questo primo commit non me l'ha ancora caricato online se andiamo qua faccio aggiorna ricarico la pagina vedete che non cambia nulla è ancora nello stato di prima ok? perché non ho ancora fatto il push devo fare push origin per portare la mia modifica che ho fatto qui localmente online premo frizza per un po' porta online tutto quello che serve e questo punto dice sei a posto voi qui potete cliccare e nel caso qualcuno abbia fatto delle modifiche le potete tirar giù ovviamente sto lavorando da solo e quindi le modifiche so che non ci sono questo sistema potete usarlo anche per sviluppare in più persone se qualcun altro poi vediamo come fare può importare il nome del vostro repository e voi lo autorizzate può lavorare assieme a voi e poi potete vedere le differenze ok? quindi andiamo qua riaggiorno di nuovo questa volta vedete che è comparsa la cartella trovo il blink.ino con le modifiche sul sorgente qui mi dice che sto lavorando su il branch main che c'è solo questo quello default non c'è altro ok? a questo punto possiamo lavorare e aggiungere delle modifiche allora attenzione immaginiamo di voler fare un branch una variazione quindi voglio fare una modifica a questo sketch però attenzione visto che lo sketch questa versione funziona voglio prima provarla allora vado qui e cerco di creare una nuova branch qua faccio new branch diamogli un nome faccio blink blink13 faccio create branch a questo punto ho creato un nuovo branch quindi un nuovo filone di sviluppo faccio publish branch stiamo dicendo al server che voglio creare queste due vie come se avessi due cartelle con dentro il software andiamo qua aggiorniamo e vedete che ne sono comparse due andiamo sulla parte principale ok qui abbiamo main posso switchare anche su blink13 quindi posso scegliere quale delle due attualmente sono uguali andiamo su github ora vedete qui mi dice che sto la mia cartella è impostata su blink13 attenzione qui non è che ne ho due ne ho sempre solo una ok solo che è il nostro github destro che sceglie dove lavoriamo allora qui siamo sul blink13 questo è il mio codice proviamo a fare una modifica facciamo pin mode 13 output e punto e virgola e creiamo il blink quindi lo creiamo qua faccio digital write 13 i anzi facciamo come faccio di soldi o quello rapido digital read 13 prendo il valore di 13 lo giro con il punto esclamativo lo riaprico al pin e facciamo delay di 1000 ok questa è la nostra versione lo salvo è stato salvato andiamo su github desktop vedete si è accorto che ci sono delle modifiche mi dice hai tolto delle parti nei giunti degli altri qui facciamo il commit quindi lo sto portando commitando localmente sul branch 13 gli diciamo blink 1000 commit to blink 13 non c'è più main ma blink 13 ok l'abbiamo fatto faccio pass per portarlo online quindi è stato pubblicato online ok è tutto andato bene adesso vado qui faccio aggiorn questa è la nostra nuova nuova versione vado su new blink apro new blink 13 vedete qua c'è il codice attenzione torno un attimo sulla parte principale se io qui seleziono main ok vado dentro new blink apro new blink in vedete che è vuoto quindi stanno coesistendo due versioni diverse posso scegliere in un momento o nell'altro utilizzando github desktop su quale lavorare adesso sono focalizzato su blink 13 se voglio cambiare voglio tornare su quella principale main seleziono diciamo last patch per star sicuri vado a prendere qua il new blink anzi lo apriamo qua con l'arduino vedete in automatico l'arduino ha aggiornato e sono sul main ok quindi posso passare da una all'altra immediatamente senza far confusione allora proviamo adesso a tornare qui riprendo il blink 13 che è la nostra variazione e a questo punto cosa voglio fare voglio unirla quindi voglio fare quello che si dice il merge visto che le cose sono andate bene allora uno può avere varie versioni del suo prodotto software del suo film e quindi portarle avanti avete un main avete varie versioni dello stadio finale però solitamente cosa fate fate dei tentativi come ho fatto io adesso ho fatto il blink vediamo se funziona il blink vedo che funziona voglio riportarlo sul main a questo punto devo fare quello che viene chiamato il merge lo posso fare sia da una parte che da quell'altra clicco su preview pull request mi fa vedere che cosa è successo mi dice merge one commit sulla base main prendendola da blink13 creo questa pull request e qua mi sta vedete c'è la freccia che mi dice blink13 va su main mi dice able to merge perché in questo caso non ci sono conflitti strani non ci sono situazioni particolari che devo correggere a mano e quindi posso cliccare su create pull request dice riusciamo a farlo in automatico quindi approvato mi dice possiamo fare il merge in automatico faccio confirm merge e a questo punto abbiamo rifuso il blink13 sul main e il blink13 non ha più motivo di esistere torniamo qui su code prendiamo new blink come vedete ho acquisito le modifiche fatte su blink13 a questo punto il blink13 potremmo anche andare ad annullarlo oppure posso ottenerlo così vedo tutta la storia ora possiamo andare avanti a lavorare sul nostro main ovviamente qua adesso torniamo su main viene risincronizzato il mio codice apriamo l'arduino faccio fetch origin il nostro guitar destro mi dice che ci sono due commit che non sono ancora state non esistono sulla macchina locale diamo l'ok ed ecco qua che abbiamo acquisito sul main le modifiche realizzate tramite il blink13 quindi abbiamo fatto una deviazione e siamo tornati sulla pista principale adesso qui possiamo andare avanti quindi se voglio modificare il tempo adesso decidiamo di mettere 200 facciamo 200 salvo e la cosa prosegue quindi torniamo qua mi accorgerò che c'è stata la modifica facciamo fast blink commit ancora faccio push per portarlo online aggiorniamo qui per vederlo e troviamo qua il 200 quindi potete procedere in questo modo è possibile condividere anche il vostro repository quindi vedete qua questo qui il mio repository che ho creato in questo caso è privato dovete dare l'accesso tramite setting a un altro utente github quindi nella zona collaboratori qui dovete entrare e potete aggiungere altri collaboratori al vostro progetto adesso per ora non lo facciamo lavoriamo sul progetto semplice l'altra possibilità che avete è quella di lavorare direttamente con github desktop e andare a creare un progetto che poi caricate quindi invece che fare clone repository ne create uno locale fare new repository scegliete il nome descrizione e in questo modo lo andate a creare sul vostro account il nostro codice adesso è aggiornato con il commit fast blink dove abbiamo messo 200 immaginiamo adesso che il mio accordo di aver sbagliato tutto e dover tornare da capo o alla modifica precedente come possiamo fare riapriamo il nostro github desktop e qui abbiamo la history la storia delle modifiche vediamo tutto quello che abbiamo fatto quindi questa è l'ultima e posso tornare indietro per vedere cosa è successo quindi cosa ho aggiunto cosa ho tolto qui ho fatto un po' di modifiche al codice le posso vedere dentro la history quindi qua vedete i vari commit con variazioni immaginate che adesso sono qui in questa versione con un commento e voglio tornare indietro alla versione precedente allora come si può fare un modo è quello di fare tasto destro fare check out commit questo creerà una versione staccata dal nostro flusso quindi faccio check out vedete qua detached head on e c'è questo numero come vedete sono tornato qui mi ha ricaricato nel mio arduino la versione precedente qui adesso posso fare delle modifiche facciamo nuova versione vado a correggere qualcosa mi accordo che il pin non è il 13 ma il 2 attenzione sono fuori dal dal flusso ok ma come faccio per tornare dentro devo creare un branch per questa cosa qua quindi faccio new branch mettiamo nome facciamo new pin ok non può esserci lo spazio quindi facciamo new underscore pin create branch mi crea un branch con questo new pin che è quello attuale in cui sono diamo publish branch ovviamente per caricarlo ok e ci siamo vado a vedere online quindi mi trovo qua carichiamo mi trovo anche la branch new pin che dovrebbe avere le modifiche che abbiamo aggiunto e quindi siamo tornati ok non le vede perché ok dobbiamo fare il commit a new pin diamo commit carichiamo a questo punto le abbiamo portate su eccole qua aggiorno e abbiamo qua la versione con il pin 2 quindi che cosa ho fatto sono tornato alla versione precedente l'ho modificata adesso posso o lasciarle coesistere tutte e due o altrimenti rifonderle insieme come abbiamo visto prima facciamo preview create più pull request mi porta su qui sta facendo l'unione della new col main cerca se può farlo in automatico dice purtroppo ci sono dei conflitti da risolvere li risolviamo cliccando resolve conflict qua dobbiamo decidere che cosa tenere teniamo il pin 2 mark come risolved facciamo commit merge e a questo punto ok siamo a posto merge confirm merge e siamo tornati ancora sul main avendo preso la modifica quindi siamo tornati indietro di un passo rimodificato e riunito sul merge ora siamo qua devo selezionare adesso il main torno su main e ricarichiamo fetch vede che ci sono tre modifiche le applichiamo ed ecco qua il nostro main che ha preso il pin 2 come la nostra modifica bene spero sia stato chiaro è un video che potrebbe essere potenzialmente molto pericoloso allora sia perché potrebbe aver detto delle castronate perché uso git per sopravvivenza quindi per tenere ordine nei progetti per tenerli organizzati bene e per evitare il problema che vi dicevo prima quello della replica dei contenuti di cartelle eccetera che si crea un disastro quindi non sapete più cosa è stato fatto da chi perché quando e come invece così se siete ordinati potete gestire il flusso delle modifiche del soft e avere tutto sotto controllo in più gestire anche degli sviluppi paralleli cosa che con le cartelle viene difficile fate una modifica da una parte la perdete quindi con questi sistemi sono stati pensati da degli ingegneri del software servono per rimettere insieme le cose e gestire il software a puntino quindi da veri professionisti perdeteci un po' di tempo ci sono vari tutorial ci sono varie funzioni magari troverò modo di rimetterci il naso e fare qualche esperimento per voi nel prossimo video vedremo come gestire il tutto con Viso Studio Code per oggi è tutto saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao